Abbiamo appena scomento che la musica è sentita di sottofondo, non l'abbiamo messa noi ma è uguale a quella che noi usiamo sotto i nostri video Yes Perciò la sua cosa già mi piace, comunque bella vecchia rani, grazie, siamo tornati con questo video E su questo video faremo le app, sempre se riuscimo a farlo Perché qua dietro c'erremo la stampante, perché il madre deve stampare le cose mentre noi facciamo i video E aiutò a sentire Questo qua, questo sono qua Capito? Sì Porca puttana Comunque siamo su quest'app che è molto semplice, si chiama 1 più 2 uguale 3, ovvero in quest'app ci saranno soltanto 1, 2 e 3 Mettici tra 1 e meno E vedremo di quanto fa Sembra una cazzata Ovviamente c'è il tempo Abbiamo il tempo, 1 più 2 è 3 E' facile, 1 più 2 è 3 3 meno 1 è 2 3 meno 1 è 2 3 meno 2 è 1 1 più 2 è 1 Ma come si è fatto? 1 faceva 1 Ho capito? 3 2 1 1 No Cazzo Io non l'ho fatto, aspettate Non dicevi Vai, vai, vai Il nostro obiettivo arriva tipo a 15 Perché 1 2 2 3 2 3 meno 1 meno 1 3 meno 2 1 1 più 3 4 più 3 1 2 meno 1 1 1 2 1 No, 2 Catraglia Ma che cazzo 8 8 è il record da batteri Allora 3 Non c'è la batteri comunque 3 sveglia e 2 1 Tanto è sempre 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 Oh no, dai Noi, ammazza che mezza No, cani di merito ti ammazzo Cioè 2 2 3 più 1, 4 meno 1, 3 3 meno 2, 1 3 meno 2, 1 3 meno 2, 1 1 meno 1, 1 meno 1, 0 meno 1, 1 1 meno 1, 0 meno 1, 0 meno 1 Come? Come? Ah, cazzo Vai 2, 3 1 1 1 1 più 2, 3 3 3 3 meno 2, 1 1 1 più 2, 3, meno 2, 1 Dai, vuol dire questo 3 3 3 1, 0, 1 1 3 più 2, 5 meno 2, 2 Vai 1 più 1, 2, 3, 1, 1 1 2, 3, 2, 3 Ma hai detto tutti E stavo a fare cosa Io stavo solo a cliccare 3 meno 2, 1 Eh, vabbè 3 1 più 2, 3 2 meno 1, 1 1 3 più 2, 2, 1 Non si sentono 1 più 2, 3 meno 1, 1 Non capisci quello che dici 2 meno 1, 1 2 meno 1, 1 Non vuole tutti così 1 più 3 1 più 3, 4 meno 2, 2, 1 1, 1 Oddio Che cazzo Ma che è sto coso? Che cos'era? Che altro cazzo Dove guarda? Dove guarda Guarda Allora Play, si 2 2 Ok 1 2 3 3 1 Mi fido mo' 1 3 meno 1 1 3 meno 2 2 1 più 3, 4 Meno 2, 2 Oddio Che culo 2, 4 0, 1 Mamma mia 2 4 meno 1, 3 3 3 Ho sbagliato Ho sbagliato La scena del dito Vaffanculo 1 No, che fai Mi sono fatto il cazzo Se non lo sbaglio No, vaffanculo Allora 1 3 3 Ho cominciato 16 però spingi 2 Deviene proprio 3 3 3 3 No, 2 1 3 3 4 Non sei 1 3 8 5 2 3 1 2 1 3 Mamma mia 2 più 1 3 meno 2 1 Ok 2 più 2 4 meno 1 3 2 più 1 3 meno 2 1 1 1 1 1 1 2 12 Sì Vabbè Cambiamo app Si Infatti Andiamo Una cosa che ci rilassa un po' Allora, andiamo su Swap Faces Allora, prendiamo l'app, si prendiamo la foto Ok, fatto Ok, dobbiamo mettere ovviamente queste cose da posizionarle così No Ok, così Eh, già va meglio Sono curioso di sapere a cosa conge questa Aspetta Stai cercando di fare il sopracciglio con un mio Ok E assolutamente pure questa girerei Eccola Ok Ok Eccola qui Che merda Vabbè, più che altro a te devono lavorare bene Sì, perché dobbiamo stare più centrali, capito Fammi un'altra foto Ok Io sfoto Aspetta Questa è la foto No vabbè, io non mi devo guardarmi Oddio Oddio, voglio carica su Instagram Ok Questa dovrebbe essere un po' più seria Io sfoto Anzi, era finita Questa è perfetta Questa è magnifica proprio Ok So io proprio Anzi Sono noi Sono noi Sono noi Oddio Eccola Eccola Questa è la più bella che c'è Questa è la migliore riuscita Eccola Eccola Che c'è cara Ahahahah Ahahahah Eccola Come storta Allora Io sfoto Perché a me mi piace soltanto un pezzo Ma questo sei tu Lunga Ok Bellissimo E questo sono io Eeeh Papam Cosa è arrivato? Cioè tocca a te o me Dipende Ma però non Sì però devi Ecco così Eh ma tipo Il pezzo di bocca lo devi mettere con la tua lingua Perché vedi A me mi piace poco Si sa perché Ma lo so Ma io sembro Io sembro quasi Cioè non c'ho C'ho la luce Non c'ha il labbro inferiore lui Ero più brutto Fare uno zombie Qualcun 2 Eeeh Uff Sei carino Ero bellissimo Ero più giusto E vabbè ragazzi Anche per oggi Questo video è finito Speriamo vi sia piaciuto Se vi piacciono questi video Tipo sulle app Così stupide Vedete noi continuiamo Faremo una serie Su quel tanto quasi Ma tanto ci vedete A full screen A full screen E noi vorremmo fare una serie Su tipo queste app Del cazzo E se vi è piaciuto Lasciamo tipo 4000 like E facciamo un prossimo episodio Con queste app Ciao lupo Ciao bella 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 Ciao bella